Per la tredicesima giornata d'andata sono di fronte allo stadio di Gabizzi Mare, Gradara, New York Centrocittà, valevole per il campionato marchigiano di seconda categoria, terminato con la vittoria dei locali per 4-1. Andiamo a vedere alcune azioni più salienti dell'incontro. All'ottavo subito pericoloso il Gabizzi Gradara, con Moratori, il suo tiro termina di poco alato, alla sinistra di Andrejattini. Al decimo rispondono subito gli ospiti, con un gran tiro del numero 10 fattori, Palazzi, bravo a deviare la sfera, in calcio d'angolo. Al dodicesimo ancora pericoloso il padrone di casa, con un bellissimo colpo di testa del numero 9 Rossi, di poco alato. Al ventesimo il Gabizzi Gradara passa in vantaggio, con un gran tiro di Moratori, che non lascia scampo al portiere ospite. Al ventiseisimo arriva la seconda segnatura, sempre con Moratori, sul bel passaggio di Balducci. Passiamo alla ripresa. Al sesto subito pericoloso il Gabizzi Gradara, con Moratori, il suo tiro fuori di poco. Al settimo ancora il padrone di casa, a segno, con il numero 9 Rossi, ben servito da Signorini. All'ottavo arriva la quarta segnatura, con Moratori, ben lanciato da Ridolfo, per lui tripletta e doppia cifra. Al minuto 19 la Junior Centra Città accorce le distanze, con il numero 7 Scarcella, abile a risprendere una corte di spinta del portiere Palazzi, su tiri in precedenza dei fattori. Per la compagnia del Presidente del Magna, se tratta del suo nono risultato utile, che la proietta in vetta la classifica, in compagnia del Tevarnele. Dunque il risultato finale qui a Gabizzi e Mare. Gabizzi Gradara batte il Junior Centra Città 4 a 1.